Il crollo all'alba di sabato 9 gennaio, uno sfregio nel muro più antico della città di Monseric realizzato nel Medioevo e poi riconsolidato nel 1600. Un crollo annunciato spiega lo storico locale Riccardo Guidotti. E' una desolazione aver visto come erano in mezzo alla carreggiata i massi di questa mura che è rovinata inesorabilmente. Era una caduta anche annunciata perché era spanciata, c'era ormai piegata verso la strada da ormai parecchi anni. Bisognava intervenire, non si è arrivati in tempo. A causare il crollo le radici degli alberi e la consistenza del sedime che poggia sullo scolo San Giacomo da un ventennio tombinato. Almeno metà della cinta del parco ha bisogno di un intervento urgente. Qui si ha un esempio di come è composta la mura antica. Cioè questo muro è composto da conci di trachite che è la pietra tipica della nostra città, la trachite. E questi conci ovviamente hanno secoli perché sono anche materiali di recupero. Una mura storica a tutti gli effetti. L'appello al comune che da anni ha in cantiere un progetto di restauro. L'amministrazione ha accelerato i tempi di un intervento e tutti lo speriamo che siano di parola. Bisognerà fare un processo di scucci e cucci. Cioè smontare tutte le mura è quasi un chilometro. Smontarle e rimontarle, ovviamente consolidando il basamento. Anche se i tempi sono difficili sotto il profilo economico perché prevale l'aspetto sociale, però io voglio fare una considerazione da storico. I tempi passati erano tempi di miseria. Eppure hanno costruito e hanno saputo conservare questo patrimonio. Dunque oggi noi dovremmo farcela, anche in un momento di difficoltà economica. Grazie. 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 Grazie.